Terza partita in sei giorni, la capacità di recuperare e resettare tutto rispetto all'ultima uscita è importantissima. Decisiva, decisivo il fatto di avere energia mentale ancora perché è necessario. Necessario altrettanto il fatto di essere molto pragmatici nell'individuare i pochi punti di interpretazione offensiva e o difensiva per la gestione della partita. La capacità proprio di farsi trovare resettati dall'ultima palla due per essere pronti a giocare quella successiva. In un campionato dove ci saranno pochissimi turni infrasettimanali e quindi c'è anche poca abitudine da parte nostra, dei giocatori, di tutti, essere superiori in questo ritmo rispetto alla normalità può essere sicuramente decisivo. Domani si affronta la Sigeco Piacenza, una formazione con al suo interno giocatori importanti soprattutto nel pacchetto esterno, penso a Marre, Sabatini, Formenti eccetera. Sono i giocatori che posseggono oltre il 50% del numero dei tiri, del numero dei possessi e dei punti realizzati. È una squadra sicuramente molto perimetrale. Ogide è un giocatore con doppia dimensione, non danno tantissimi punti di riferimento. Sabatini ha una piena libertà e licenza di attaccare in ogni momento e sappiamo che le sue accelerazioni possono essere molto fastidiose. Formenti è un giocatore che ormai conosce le dinamiche di questo nostro campionato e quindi è sempre pronto a fare la cosa giusta al momento giusto. Soprattutto Marre è un giocatore con un talento offensivo pazzesco e quindi è necessario veramente avere una grande presenza difensiva sul perimetro perché è necessario e perché comunque queste tre fonti di gioco portano e fanno sì che Piacenza ad oggi sia la prima per punti realizzati nella nostra Lega e quindi necessita veramente la migliore performance difensiva della stagione.